Una relazione alta, bella, condivisibile, che consente al PD di rialzare la testa, di guardare avanti, di affrontare una fase tutt'altro che semplice per il Paese. Ora tutti quanti dovremmo dare il nostro contributo a far sì che quell'indicazione, quella riflessione si possa sviluppare, possa portare a un'iniziativa politica conseguente. Mi sembra che sia stata molto giusta l'indicazione di tornare a una discussione all'interno dei circoli, coinvolgere i nostri militanti, i nostri elettori in questo sforzo di cui si è indicata la direzione.